Il 31esimo carnevale del Gridas Il tema è sempre lo stesso, la vita e la morte La morte è rappresentata da tutto questo flusso di veleni tossici che vengono praticamente dal nord Il valore di questa azione è il risveglio dal sonno Praticamente di un luogo che è un luogo praticamente leso nella propria dignità Ma l'importanza di questo carnevale è la testimonianza che chi semina bene poi nel tempo raccoglie Per questo la municipalità è vicina a queste iniziative e oggi dedichiamo tutti insieme a Felice Pignataro Questa bellissima manifestazione rappresenta la lotta alla camorra, all'illegalità La voglia di utilizzare degli strumenti a fin di bene Ma oggi tutti possono vedere nel mondo quali sono i colori della vivacità, dell'allegria, del carnevale e del futuro Ma noi ovviamente il carnevale è il riappropriarsi degli spazi negati, delle piazze negate Questo è un trattore confiscato ad un clan camorristico quindi era un'opportunità negata per la cittadinanza E quindi lo restituiamo alla cittadinanza insieme al pacco alla camorra, formato gigante Che abbiamo voluto attaccare di talca Perché stiamo aspettando? Perché è talmente pieno di gente Che abbiamo intassato un rione intero e è successo un blocco di traffico Questo non so ai vigili ma a noi ci fa un piacere enorme Quindi va bene Noi non andiamo a pressa alle emergenze Noi siamo sempre per dire le cose tutti i giorni Quindi le cose che noi diciamo le diciamo tutti quanti i giorni Quindi non solo le emergenze Le emergenze le vedono solo quelli che chiudono gli occhi in certi momenti della vita E poi dopo a un certo momento soltanto li aprono E vedono che scampia c'è la droga, che scampia c'è questo e c'è quell'altro Questo è il discorso Noi che ci viviamo sempre sappiamo che le cose si possono evitare Soltanto vivendoci sempre insieme Questo è tutto Siamo d'accordo per i siti di compostaggio Non solo per la scampia Solo a scampia non ha senso Abbiamo bisogno di tanti siti di compostaggio Per chiudere il cerchio Questo girasole Ogni petalo è un orto, è un giardino che noi abbiamo creato dal basso Ecco perché noi riqualifichiamo il quartiere Ma dobbiamo riqualificare anche il territorio complessivamente Noi continueremo Senza soldi non ci interessa niente Non abbiamo bisogno di soldi per fare queste cose Sì, è l'università che stanno costruendo qui al posto della vela H E' una realtà che può cambiare di molto il volto del nostro quartiere Proprio perché la cultura è quella cosa in più che serve al nostro quartiere A scampia Qui ci sono tutti i ragazzi che comunque hanno sempre lavorato Hanno sempre studiato Noi siamo il pezzetto della banda baleno di Scampia Gli vedono venire tutti i napoletani, tutti i cittadini del mondo Vi dobbiamo fare una grande festa a Scampia Le parti diverse della città devono incontrarsi Perché nell'incontro fra le diversità c'è l'incontro della dignità La dignità di essere napoletani, ragazzi con talento Voglia di emergere e non di nascondersi Questo è il cavernevale di Scampia e del Gridas di Felice Questo è un castello dove ci sono tante scene di piccole ingiustizie Che sono state poi liberate dai Robin Hood, dei bambini che hanno rappresentato E quindi è un castello della liberazione È stata una mattinata dove Scampia ha dimostrato quanta bella gente c'è Quanta energia c'è Quante associazioni appassionate ci sono E che quindi questa è la dimostrazione che questa è la vera Scampia È la Scampia che ci piace, è la Scampia che è allegra, gioiosa Ma che lavora per cambiare i connotati a questo territorio Grazie a tutti